Io sono Alberto, col cognome friulano Niesutta, però milanese in fondo, e appassionato di carta moltissimo, da quando ero anche piccolino, perché mi piace anche disegnare, credo al fatto della partecipazione personale a quello che è l'aspetto comunicativo e anche nello stesso tempo ludico e creativo che la carta ti permette. La carta poi, dopo averti fatto questo grosso regalo di essere un mezzo per comunicare tutte queste belle cose, prende anche in più una sua personalità. Io parlo della carta carta, non carta meccanica, la carta che ha una sua dimensione anche di oggetto vivente, perché è un po' più grande, un po' più corto, un po' più piccolo, il bordo è fatto così. E queste diversità del foglio, diversità che danno anche la personalità al foglio, ti permettono di adoperarlo e di darti attraverso la sua personalità il modo di ricordarlo. Ricordare quindi il foglietto di carta che è un po' diverso da quell'altro. ti ricordi benissimo dove l'hai messo, perché è diverso. E con questo mi aiuta la memoria debole con la sua personalità. Voilà! Grazie per la visione! Grazie per la visione!